E' tutto molto semplice, basta che tu pronunci il mio nome per tre volte. Beetlejuice. Giusto? Ok, ora due, è seconda. Beetlejuice. Ah, l'hai già detto due volte, dillo un'altra volta. Beetlejuice. Non dovete fare il suo nome. Il capolavoro anni 80 di Tim Burton. La più dissacrante commedia horror è su 27. Sì, sì, sì! Beetlejuice, spiritello porcello. Domani sera alle 21.